Buonasera, io avrei necessità stasera di fare due interventi perché siamo in una federazione che mi accoglie ormai da diversi anni, dal 1992 come associato e come delegato nazionale a Cerca Casa ormai da due anni, quindi mi è proprio necessario scindere le due cose proprio perché sento questa necessità. Io come dicevo è dal 1985 che sono un agente mobiliare in Firenze e ho sempre creduto nelle squadre, nel fare squadra, nella collaborazione, sono fermamente convinto che entrando proprio nel pratico un affare non lo devi guardare nel momento in cui lo fai, ma deve essere valutato il tutto in un periodo temporale. Se te dai tempo in quel momento credi per poter collaborare con un collega di perdere qualcosa, ma questo assolutamente non è vero. E come associato, 33-17, ribadisco, come Viti Sergio, soffro purtroppo di questo e vi spiego perché. Ci sono all'interno della federazione dei prodotti veramente belli, interessanti che ho avuto modo di provare. Possiamo citarne due. Il primo che mi tocca molto da vicino è Auxilia. Auxilia io con gli operatori del settore fiorentino mi sto veramente trovando bene perché vi garantisco che su dieci trattative io riesco ad eseguire il contatto con i referenti di Auxilia con dieci clienti e di questi dieci clienti sette rimangono in quell'ambito. Forse qualcuno lo perdiamo, ma la media è questa. Ne parlo e purtroppo ho avuto modo di parlarne con dei colleghi perché chiaramente ho avuto la fortuna un po' di girare l'Italia per l'incarico di delegato nazionale e mi rendo conto che questo settore in certi posti, in certe località è purtroppo sconosciuto o quantomeno non c'è la volontà di poter capire cosa la federazione offre in questo settore. Un altro prodotto molto valido, MLS Open, parliamo di Replat, parliamo di queste situazioni e tutto il resto. Bene, è circa 4, 5, 6 mesi, non ricordo, che è partito questa attività, questa MLS Open, offerto in maniera gratuita a tutti gli associati. Solo 400 in questo momento hanno aderito a questo progetto, che è un progetto gratuito messo a disposizione della federazione che ci serve per fare rete. Io ho inserito i miei mobili, li sto collaborando con più o meno tutti i miei mobili e ho provato ad inserire delle richieste. Il primo collega con cui riesco a collaborare a Firenze è un collega di Montevarchi. A Firenze, purtroppo, ahimè, ancora non ho un collega che ha deciso di provare questo prodotto, anche pur criticandolo, dicendo che non è valido, ma non ha deciso di provarlo. Allora, colleghi miei, di che cosa parliamo? Dobbiamo evitare di criticare, ma dobbiamo provare tutto quello che la federazione ci mette a disposizione, se non altro per capire se questi prodotti effettivamente sono validi. Io li ritengo validi, mi dà molto fastidio e molto noia che non ci sia in dei momenti nemmeno la volontà di fare un tentativo. Noi sentiamo parlare tutti, diciamo, i colleghi, il Presidente e tutto il resto, è tutto bello e sicuramente è bello, perché viviamo una grande comunità in cui possiamo fare tanto, ma se non decidiamo di fare squadra, ma squadra vuol dire stare in trincea dalla mattina e sera provando i prodotti, criticandoli con una critica costruttiva, difficilmente riusciremo a fare quella squadra che io ho tanto sognato da quando faccio questo lavoro, dal 1985. Quindi vi esorto veramente a provarlo, ma non per la carica del rivesto, ma semplicemente per dare la possibilità a tutti noi di utilizzare dei prodotti in casa nostra, evitando di dover subire continuamente da tutte le fonti esterne che oggi ci circondano, sia a livello pubblicitario che a livello collaborativo. Grazie. Se è possibile vorrei veramente parlarvi di quello che è il cerca casa, ma non nell'aspetto tecnico, ma di quello che ha percepito Sergio Viti, quale delegato nazionale che da due anni di seguire questo progetto? Se c'è possibilità. No, non voglio... Ok, perfetto. Dunque, è un tema caldo, molto caldo. Certo, 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 certo. Dunque, io due anni fa ho avuto l'onore di seguire questo incarico veramente bello, veramente ambizioso, perché Sergio Viti, quale sono, ho sempre sognato una collaborazione e negli anni, purtroppo, come Sergio Viti non riuscivo, come Sergio Viti è il rappresentante della mia agenzia, non riuscivo assolutamente ad esternare la positività della collaborazione. Quando il nostro Presidente nazionale mi ha prospettato questo incarico, l'ho accettato proprio perché ho visto la possibilità di poter dialogare con molti colleghi e cercare finalmente un po' di coronare anche il mio sogno, che è appunto quello della collaborazione. Chiaramente non dobbiamo nasconderci dietro un dito, non va tutto bene, perché sappiamo tutti, ne abbiamo parlato, ci scontriamo con delle realtà enormi rispetto a noi, fonti di denaro in mani che noi non potremo mai avere e poterne disporre per questa cosa. Quindi abbiamo dovuto cercare di razionalizzare questo progetto, quantomeno il primo periodo è servito a capire quello che potevamo fare e dove potevamo arrivare. Bene, signori, allora domani mattina ci saranno questi workshop in cui entriamo nel dettaglio di quello che realmente abbiamo fatto e l'abbiamo fortemente voluto in sinergia con tutta la dimensione delle reti che noi abbiamo, però parliamo anche nello specifico del cerca casa. Quello che abbiamo fatto in questi due anni abbiamo potuto fare solo due cose. Abbiamo messo in sicurezza un sistema, era un sistema che funzionava bene però aveva necessità di essere performato, essere messo in una situazione in cui potesse funzionare e francamente ad oggi questo accade. L'altra alternativa su cui potevamo lavorare, abbiamo lavorato assiduamente, è stata la visibilità del portale. Una visibilità che è stata fatta attraverso un lavoro di un'attività SEO che purtroppo ancora non sta dando i risultati ottenuti, ma è un'attività questa che, poche parole, è partita da ottobre e colmenerà col suo apice più o meno nel periodo di marzo, perché sono quelle attività che vengono messe in campo cambiando alcune strutture all'interno del portale per far sì che i nostri motori di ricerca, in particolare Google, possa riconoscere il portale. Queste sono le due attività che abbiamo potuto mettere in campo. Altro non abbiamo potuto fare, ma semplicemente perché non disponiamo di quelle risorse finanziarie di cui effettivamente ci sarebbe necessità. Quindi ho ritenuto importante cercare di ottimizzare le risorse per arrivare qui. Capisco che per tutti voi ancora non è sufficiente, però è importante mantenere in piedi questo progetto per far sì che quelle attività di base che abbiamo messo in piedi in questo periodo possano veramente dare i suoi risultati. Ora arriviamo al dunque. Cosa potrà essere, diciamo, di Sergio Viti in qualità di delegato nazionale al Cerca Casa e cosa potrà essere di questo progetto? Questo progetto, io ve lo dico chiaramente, indipendentemente da quello che abbiamo fatto, ha necessità di due realtà di base. La prima è una partecipazione. È una partecipazione perché fino a noi siamo 8 mila associati. Io continuo a dirlo e i miei colleghi delegati regionali al Cerca Casa, che veramente li vorrei qui al fianco con me, perlomeno per quelli che sono in sala, continuiamo a dirlo a tutti che solo il 20, il 30% delle persone hanno provato ad inserire un annuncio nel portale. Inserire un annuncio nel portale non vuol dire fare grandi cose, vuol dire dedicare mezz'ora del proprio tempo, un sabato mattina, a inserire i 4-5 immobili che noi abbiamo all'interno del nostro portafoglio. Io l'ho fatto, ma oltre a averlo fatto come delegato nazionale, l'ho fatto perché forse, se questo portale mi restituisce una visita o quantomeno una cosiddetta conversione, forse posso anche rischiare di vendere un immobile, il tutto in maniera gratuita. Quindi questo è il primo aspetto che deve emergere per poter andare avanti nel progetto. L'altro aspetto ovviamente è, qui lo dico e sarà modo anche di confronto futuro e tutto il resto, ovviamente è anche un supporto federativo, perché per quanto la mia federazione mi ha sostenuto e mi ha supportato in questo periodo, ci sarà necessità di prendere decisioni importanti per capire effettivamente qual è il futuro di questo portale. Cercheremo di prenderle, spero veramente di riuscire a trovare un quadro su questo e quindi riuscire a portare avanti il progetto, però da questo momento in poi io, Sergio Viti e tutti i miei delegati regionali abbiamo fatto veramente il possibile per arrivare a ottimizzare questo progetto. Da questo momento in poi, per poter vedere questo progetto andare avanti abbiamo bisogno di queste due basi, voi che partecipate al progetto e una federazione che è sicuramente attenta a questo progetto. Io ringrazio Grumetti che oggi ha detto portale e non ha detto cercacasa.it, ma lo ringrazio lo stesso. Personalmente avrei voluto sentire qualche volta di più la parola cercacasa all'interno di questi due giorni, perché è questo di quello di cui noi abbiamo bisogno. Quindi il mio incarico quanto durerà? Non lo so, dipende da quello che voi associati deciderete di fare di questo progetto e da quello che la federazione potrà fare ovviamente nei limiti del possibile. Vi ringrazio.